Stiamo partendo, invitiamo le persone a firmare per le candidature alle primarie. Le primarie sono un appuntamento importante perché rappresentano un'occasione di partecipazione. Le primarie sono aperte a tutti, non soltanto a persone che siano iscritte ai partiti, riguardano tutto il centro-sinistra e danno la possibilità di esprimersi. Sono per noi un momento di ascolto in cui provare a recuperare una opportunità di collaborazione, di sentire le tante idee che ci sono da parte della cittadinanza, costruire rapporti di fiducia, riprendere quelle alleanze che in questi anni abbiamo costruito e anche riuscire a ricucire nuove alleanze. Le firme sono l'occasione per l'incontro e quindi puntiamo sì a riceverne tante, chiediamo che le persone vengano, che possano firmare, perché in questo modo si riattiva la relazione, si ha cura della relazione. Quali sono i temi caldi di questa campagna in vista delle primarie? Beh, sicuramente tutta la nostra situazione locale e complessiva, quindi non si può prescindere da questioni ambientali importanti, che per Lucca vogliono anche dire questioni legate alla mobilità, alla sostenibilità, all'economia che deve rinnovarsi, alla transizione o meglio rivoluzione ecologica. E per tutto questo è fondamentale parlare di lotta alle disuguaglianze, opportunità di lavoro, impegno grande per l'istruzione e la formazione a tutte le età in una situazione di apprendimento permanente e equità di genere nella partecipazione alla società in tutti i ruoli e anche nella rappresentanza equa a livello proprio democratico. Quindi un momento di rafforzamento della partecipazione per costruire una democrazia in cui tutte e tutte possano essere attive, partecipi e protagonisti.